E partiamo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Cosa c'è di più bello del lunedì alle otto e mezza di vedere un esercizio sulla ricorsione? Non so se avete già avuto modo di masticare un po' questo argomento che, ripetiamolo, è uno forse dei più ostici di questo corso. E però faremo tantissimi esercizi, quindi avremo l'opportunità di imparare bene questa metodologia. Che avete già imparato a vedere, è difficile da mettere in pratica, è difficile da visualizzare anche mentalmente, però poi ci permette di risolvere dei problemi anche abbastanza complicati con pochissime righe di codice. E quindi è un metodo molto potente. Oggi vediamo un esercizio, un bricciolo diverso dai due che avete visto la scorsa settimana. Vi introduco subito la differenza principale. Allora, la scorsa settimana avete visto come primo esercizio, se non sbaglio, gli anagrammi, giusto? In quel caso voi eravate interessati a trovare tutte le soluzioni, no? Quindi tutte le parole che si possono comporre con quelle lettere lì. E quindi esploravate tutti i casi. Poi avete fatto un altro esercizio, le otto regine. Anche in quel caso, ditemi di nuovo se sbaglio, ma avete provato a esplorare tutte le possibili soluzioni. E poi, se non sbaglio, avete anche provato a trovare solo la prima, giusto? Quindi, appena ne trovo una, sono soddisfatto, mi basta quella, esco dalla ricorsione e ho finito. In questo caso, nell'esercizio che vediamo oggi, ci interessa vedere probabilmente tutte le soluzioni, ma non tutte le soluzioni sono uguali per noi. Quindi non ci basterà sicuramente trovare la prima che ci capita, vogliamo trovare la migliore. E quindi un problema di ottimizzazione. C'è un pezzo in più che andremo ad aggiungere al nostro algoritmo ricorsivo. D'accordo? È molto comune che capiti questo anche negli esercizi da qui in avanti. Proviamo a leggere insieme le specifiche di questo esercizio. Vogliamo partecipare all'edizione Nobel 2022 dell'Ateneo, ovviamente un gioco, in cui in fase di iscrizione è necessario specificare un sottoinsieme, quindi non tutti, ma un sottoinsieme di esami sostenuti per un totale di esattamente M crediti, ok? Esattamente M, né uno di più né uno di meno. Ovviamente vogliamo vincere questo premio e quindi siamo interessati a proporre questo insieme di esami, questo sottoinsieme di esami che abbia la media dei voti più alta. La variabile M varia di anno in anno, in sostanza è un parametro del programma che specifica l'utente. e quindi vogliamo realizzare un programma in Java dotato di interfaccia grafica che permetta a noi di, dato un insieme di esami, tutti i nostri esami ad esempio, di trovare il sottoinsieme di esami di esattamente M crediti che abbia la media più alta. È un classico problema di ottimizzazione, una variante del problema dello zaino. È chiaro cosa vogliamo fare? Ok, il progetto base è già su GitHub, quindi se volete fare fork e clone potete farlo. E vediamo un attimo che cosa c'è già in questo progetto base. C'è già tanta roba perché siamo interessati all'algoritmo ricorsivo, quindi tutto il resto è già presente nel progetto base. Innanzitutto ci basiamo su un database che è presente nella cartella DB del progetto base, quindi potete importarlo. Si chiama esami triennale. È veramente un database facilissimo. Fatemelo aprire. Nel frattempo potete importarlo. Esami triennale. C'è una sola cartella chiamata esami, al cui interno salviamo gli esami. Ogni esame è composto dal codins, quindi il codice del corso, il voto e i crediti, che sono un po' le due informazioni su cui andiamo ad agire. E poi c'è un nome del corso, una semplicissima tabella giusto per portare a termine il nostro esercizio. Se vedete ci sono già degli esami inseriti. Possiamo usare questi come esempio per partire, ma se volete potete anche... C'è una classe nel package DB che si chiama populate DB, con cui potete giocare, non lo so, magari inserire i vostri esami se volete cambiarle, ma altrimenti quelli che ci sono vanno benissimo. Lo stesso package DB contiene già tutti i metodi necessari ad accedere a questo database. Quindi vabbè, c'è la classica DB Connect, dove vi ricordo di cambiare la vostra password di MySQL, se no ovviamente non riuscite ad accedere al database. C'è il DAO, esame DAO, che ha già tutti i metodi, non scriviamo metodi per accedere al database oggi, almeno in quest'ora. Quindi una GET tutti i esami, che mi ritorna l'elenco di tutti gli esami presenti nel database. Un metodo per inserire e un metodo per cancellare. Comunque non ci concentriamo sul database oggi. E poi c'è anche una classe di supporto, ma questa era solo per provare i vari metodi test DB. Poi vediamo un po', abbiamo anche già il package model, abbiamo già la nostra classe esame, ok? Che ci modella le righe del database, già fatta. Vediamo un po', c'è anche le SCODE Equals, quindi già tutto fatto. Il modello, addirittura qui abbiamo già due metodi di supporto, che vi ho già messo all'interno del progetto base, così non perdiamo tempo. Il primo è per calcolare la media dato un insieme di esami. E il secondo è per calcolare la somma dei crediti, sempre dato un insieme di esami. Vedremo che useremo questi due metodi. E poi c'è il nostro metodo ricorsivo, che dobbiamo andare ad implementare. E poi abbiamo ancora nel controller, anche qui il controller è già tutto fatto. Già controllo errori, c'è già la chiamata al metodo del modello, che ovviamente è da fare, però c'è già. Quindi abbiamo veramente solo da concentrarci sulla parte ricorsiva. Spero che nel frattempo siate riusciti a importare il progetto e il database. E quindi prima di partire a capofitto e scrivere codice, proviamo a ragionare un attimo sulla soluzione di questo esercizio. Diciamo su carta, io mi creo un nuovo file qua dentro, chiamiamolo traccia-soluzione, un file txt. E cerchiamo di ragionare un attimo insieme su quali alternative abbiamo. Vedremo che abbiamo due possibili approcci che possiamo utilizzare. Allora, partiamo innanzitutto da capire quali sono gli input e gli output del nostro programma. Allora, come input avremo sicuramente... Cos'è che conosciamo? Direi l'insieme degli esami, no? Questi ci sono, sono nel DB. Chiamiamolo esami. L'altro input, ve l'ho detto prima, è questa variabile M. Quindi la grandezza, diciamo così, nel nostro sotto insieme. Quindi numero di crediti, M. Direi che queste sono le due informazioni che conosciamo a priori. Quale è l'output? Direi un sotto insieme di esami, tale che... Usiamo un metalinguaggio. Somma di esami punto crediti uguale, uguale ad M, esattamente ad M. E poi che la media di esami punto voto sia massima. È chiaro? Questo è, diciamo così, definisce il nostro problema. Allora, abbiamo detto, abbiamo due possibili soluzioni, approcci diversi. Vedremo che saranno anche molto diversi in termini di performance. Partiamo dal primo approccio, approccio 1, che mi viene da chiamare il più, tra virgolette, ovviamente stupido. Perché vedremo, è facile da immaginare, ma quando poi andiamo a cercare dei sotto insiemi grandi, quindi quando questo valore M è grande, vedremo che questo algoritmo non ci permetterà di arrivare a una soluzione in tempo ragionevole, perché esplorerà troppi casi, soprattutto troppi casi inutili. Ma proviamo a vederlo. Allora, qui questo approccio è molto simile agli anagrammi, nel senso che ad ogni passo della ricorsione, ovviamente io parto da una soluzione parziale, come avete visto negli anagrammi, che è vuota e man mano la riempio, la svuoto, e qui ad ogni passo della ricorsione devo decidere quale esame della mia lista di partenza di esami devo mettere in parziale e quale metto? Boh, li provo tutti. Quindi uno per volta li metto dentro, li tolgo e provo tutte le possibili soluzioni. Quindi ad ogni passo, ad ogni livello, chiamiamolo, l della ricorsione, inserisco un esame in parziale. Devo decidere quale, li provo tutti. Non so a priori quali esami mi vanno bene. Devo provare, quindi metto dentro parziale e vado avanti con la ricorsione. Quindi che cos'è una soluzione parziale? Ad ogni livello l Parziale sarà una, diciamo così, una lista o un insieme di esattamente l esami. Parziale sarà un sotto insieme di esattamente l esami. E come faccio a generare? Quindi generazione sotto problemi. Se vi ricordate, la ricorsione come metodo ci dice che noi possiamo prendere un problema più grande e scomporlo in vari sottoproblemi più piccoli, fino a quando troviamo dei sottoproblemi che sono immediati da risolvere. E quando arriviamo lì, al fondo, diciamo così, ritorniamo su cercando di ricombinare tutti i sottoproblemi che abbiamo risolto. In questo caso, come faccio a generare un nuovo sottoproblema? Un nuovo sottoproblema è aggiungere un nuovo esame a parziale, ovviamente tra quelli che non ho ancora aggiunto. Quindi diciamo così, parziale uguale parziale più esami di i, ad esempio. Se supponiamo di scorrere i nostri esami con un ciclo for. Quindi, a livello uguale a 0, io avrò n scelte possibili. A livello l uguale a 0, la mia parziale sarà vuota, ho appena iniziato. Quindi, se vi ricordate, nell'esercizio degli anagrammi avevate questo ciclo for sulle varie lettere. E qui avrò questo ciclo for sui vari esami, no? E a livello 0 potrò avere la mia parziale che inizia, diciamo così, con E1, se chiamiamo i nostri vari esami E1, E2, N. Magari scriviamolo anche qui. E1, E2, E, N. Ma potrò anche avere parziale uguale ad E2. Fino a parziale uguale ad E2. Questo è il primo livello della ricorsione. Quindi, a livello 0 ho n scelte possibili. Ovviamente, come lavora la ricorsione? Non prova queste scelte in ordine. Espanderà prima tutto il ramo che inizia con E1. Per poi tornare indietro con il famoso backtracking e ripartire ad esplorare il ramo con E2. Ok? Quindi, la ricorsione, il primo passo, proverà con E1 e poi scenderà in questo ramo. Quindi andrà al livello 1 di questo ramo. E quali sono le scelte qui? Come si espande questo ramo? Beh, parziale uguale, parziale che c'era già, più un altro esame che decido di mettere. E qui, E1 l'ho già messo, quale sarà il secondo esame da provare? E2, quindi E1 e E2. Poi, se volessimo fare proprio le cose in ordine, dovremmo continuare con questo ramo, fino a quando questo ramo non raggiunge la fine. Quindi dovremmo andare a livello 2 di questo ramo, dove parziale sarà uguale a E1, E2, E3. Ok? E via dicendo. Poi, tornando indietro, lui farà anche tutti gli altri livelli, gli stessi livelli, però relativi agli altri rami, chiamiamoli così, della ricorsione. E quindi a un certo punto tornerà indietro e arriverà di nuovo al livello 1, dove, in questo caso, parziale conteneva E1. E quindi in questo caso dirà parziale uguale E1. Ok? E2 no, perché l'ho provato nel ramo sopra, quindi ho già provato quella strada. Proviamo invece con la strada E1 e E3. e andrà giù con l'L2. Parziale uguale E1, E3, E4. E via dicendo. Anzi, qui più che E4, per come l'abbiamo strutturata, E2. Riparte da 0, E2 non l'abbiamo ancora messo, e lo controlla. E così via per tutti gli altri casi. Ad esempio, se siamo qui, a livello 0, a livello 1, scusate, no, 0, scusate, con E2, beh, se andiamo avanti a livello 1, qui parziale, cosa conterrà? E2. Ok? Scende di un livello, c'è già E2, riscorre tutta la lista degli esami, e inserisce quelli che non ha ancora inserito. In questo caso E1. e poi andrà avanti. E via dicendo, non riusciamo a espandere tutto l'albero, soprattutto su un file txt. Però dovrebbe essere chiaro il ragionamento, non so, se qualcuno ha qualche dubbio è meglio risolverli adesso. Qual è, secondo voi, il grosso problema di questa soluzione? Che? Scusami? Le soluzioni si ripetono. Le soluzioni si ripetono, esatto. Ad esempio, se guardiamo qui, a livello 1, abbiamo, controlliamo la soluzione parziale E1 e E2. Ma, allo stesso livello 1, solo in un ramo diverso, abbiamo anche la soluzione E2 e E1. Ora, per come è strutturato il nostro problema, per noi non conta l'ordine. Perché per me avere l'esame di analisi e l'esame di fisica, oppure averli invertiti, non cambia niente, no? Tanto li posso mettere una volta sola. E l'ordine non conta. E quindi esplorare queste due soluzioni parziali, che sono uguali dal nostro punto di vista, è solo una perdita di tempo. Mentre per gli anagrammi non era così, perché negli anagrammi l'ordine conta. L'anagramma che inizia con BA è diverso dall'anagramma che inizia con AB. Ok? In questo caso no. E quindi stiamo esplorando delle soluzioni inutili. Questo è il problema di questo approccio, che vedremo con l'approccio 2, come possiamo risolverlo. Però, adesso continuiamo su questo. Quindi, questo albero è esattamente quello che avete visto concettualmente con gli anagrammi. Identico. Quali sono i casi terminali? Quando è che possiamo fermarci? Allora, negli anagrammi ci fermavamo quando finivamo le lettere, giusto? Qui ci fermeremo quando finiamo gli esami. Quindi, il primo caso terminale è quando il livello è uguale, diventa uguale a n, se supponiamo di avere n esami di partenza. Ok? Ma davvero dobbiamo arrivare fino al fondo? Qual è la specifica di questo esercizio? Abbiamo detto, ci interessano dei sotto insiemi di esattamente m crediti. Ok? Quindi, se io, supponiamo di avere m uguale a 20, ok? Io inserisco, o nella mia soluzione parziale ho inserito analisi 1, che sono 10 crediti, boh, fisica 2, che saranno 10, siamo a 20. Poi analizzo la mia soluzione parziale, provo ad inserire un altro esame, che ne so, TDP, che sono altri 10 crediti o quanti sono, e vado già a 30. Ha senso continuare? No, perché a me interessano i sotto insiemi di esattamente 20 crediti. Quindi, già solo i primi due mi davano una soluzione, ecco. Potevo fermarmi lì. È inutile aggiungere altri esami, sono già arrivato a 20. Oppure, metto un esame da 10, ne metto uno da 12, il totale è già 22, non ha senso che continui, perché non posso più trovare delle soluzioni, continuando a esplorare quel ramo. Sono già fuori range, ecco. Quindi, a differenza degli anagrammi, spesso, se non sempre, ci fermeremo prima, ok? E c'è una differenza tra avere esattamente m crediti o averne di più. Nel senso che, se parziale punto somma crediti uguale uguale a m, quindi se durante il mio percorso trovo una soluzione parziale, la cui somma di crediti è esattamente uguale uguale a m, questa potrebbe essere una soluzione. Perché dico potrebbe? Perché a me interessa quella migliore, magari questa non è la migliore, non posso saperlo. Quindi, se parziale punto somma crediti uguale uguale a m, potrebbe essere una soluzione. E poi vediamo come possiamo risolvere quel potrebbe. Ma, else, se parziale punto somma crediti maggiore di m, vi ho fatto l'esempio di prima, metto analisi 1 da 10, ok? Poi ne metto un altro che è da 12 e sforo subito, ok? In questo caso è più facile. Questa non può essere una soluzione. E quindi cosa faccio? Banalmente esco dalla ricorsione. E quindi farò semplicemente una retool. Questo è il caso più semplice, no? Questa soluzione parziale non mi potrà mai dare una soluzione, né migliore né peggiore. Perché sfora subito il mio vincolo sui crediti. E quindi è inutile che continuo ad aggiungere, è inutile che raggiungo il fondo della ricorsione, esco. Se invece la somma crediti è uguale a m, anche qui posso uscire perché ho già raggiunto il mio limite. Ma prima di uscire controllo se è la soluzione migliore. E questo è il passo che differenzia un problema di ottimizzazione da un problema come gli anagrammi dove ci interessavano tutte le soluzioni. E come faccio a capire se è la soluzione migliore? La confronto con il migliore che ho finora. La confronto con il migliore che ho finora. Quindi tutte le volte che trovo una soluzione migliore di tutto quello che ho visto in precedenza, me la salvo in una variabile da qualche parte. E la sovrascrivo nel caso in cui durante il mio percorso ne trovi una migliore. Calcolando ovviamente la media voto. E' chiaro il procedimento? Poi secondo me se qualcuno ha dei dubbi si risolveranno col codice e facendo l'esercizio. Spero. Le prime volte è normale che sia un po' ostico da capire ma poi... Fermandoci prima miglioriamo anche un pochino le performance perché noi potremmo comunque andare fino al fondo, nessuno ce lo vieta. Qui ci fermiamo un po' prima in certi casi e quindi miglioriamo un po' le performance. Vedremo però che comunque non è sufficiente questo fermarsi prima perché le strade inutili comunque le percorreremo. Magari ci fermeremo un attimo prima ma è comunque una strada inutile e quindi è comunque computazione che ci toglie tempo e non ci dà niente in cambio. Va bene proviamo a mettere in codice quello che abbiamo detto fino ad adesso. Quindi apriamo la nostra classe model, ok? E definiamoci gli attributi di cui abbiamo bisogno. Sicuramente abbiamo bisogno degli attributi di input, diciamo così. Quindi avremo sicuramente una lista di esame, esami, che sono i nostri esami di partenza. Importiamo list e va bene. Poi abbiamo detto che un altro input è la variabile m, ok? Il numero di crediti. Se però guardiamo bene questa variabile che possiamo ridefinirla qui, io l'avevo chiamata numero crediti, ma se vogliamo riportarci alle specifiche possiamo chiamarla m, la riceviamo già come parametro nel metodo. Quindi è inutile definirla come attributo della classe. La riceviamo lì e la useremo da lì in avanti. Questi erano gli input. L'output, l'output lo ritorneremo qui, quindi di nuovo non è il caso di avere un attributo della classe, perché lo ritorneremo direttamente da qua dentro al chiamante, quindi al controller, e va bene. Cos'è che ci serve ancora? L'abbiamo appena detto, lo diceva il vostro compagno. Un qualcosa per tenerci traccia nel nostro percorso della soluzione migliore. Quindi che cos'è una soluzione? È sicuramente una collection di esame. Ne chiamiamola migliore, non lo so. Ma qual è la collection che può tornarci utile in questo caso? Qual è la scelta migliore da fare? Qualcuno dice una lista? Provate a ragionare sui percorsi inutili che abbiamo detto. La caratteristica di questo programma, esercizio, è che l'ordine non conta. L'ordine non conta vuol dire che ci può bastare un set. Anche perché poi gli esami li inseriamo una sola volta nella nostra soluzione. Quindi sono univoci nella soluzione e quindi un set va benissimo. Quando dobbiamo trovare una soluzione migliore abbiamo anche spesso bisogno, soprattutto in questo caso, di una variabile che ci tenga traccia del, chiamiamolo peso, di questa soluzione. Io avrò la mia soluzione migliore che è associata a un determinato peso, che in questo caso è la media dei voti. Tutte le volte che troverò un peso, in questo caso, maggiore, sovrascriverò sia il peso migliore che ho trovato che la corrispondente lista, il set, scusate. Quindi abbiamo un peso che in questo caso è un double perché è una media voto. Quindi media migliore. Queste variabili sono definite ma non inizializzate. Dov'è un punto in cui possiamo inizializzarla, ad esempio, il costruttore del modello. Che non c'era, lo definiamo. Allora, partiamo da esami, dis.esami, uguale. Questi esami li andiamo a prendere dal database, giusto? Allora, per farlo ci serve anche un DAO e quindi lo creiamo appena sopra. Possiamo anche crearlo al volo, tanto è l'unico punto in cui andiamo ad accedere al database qui nel modello. E quindi esame DAO, DAO uguale new esame DAO, importiamolo, dis.esami, DAO.get tutti esami. Attenzione, qui non faccio la new perché la new è fatta dal get tutti esami. Se io vado nel mio DAO, get tutti esami, c'è una new di una lista che contiene degli esami e poi questa lista viene ritornata. Quindi è lui che fa la new e mi ritorna già una lista già fatta, già creata, già inizializzata. Allora, dove invece creiamo il nostro set di esami migliori? Potremmo anche crearla qua dentro nel costruttore del modello, ma forse un punto più furbo in cui crearla è farlo ogni volta che l'utente clicca sul bottone e richiede una nuova soluzione. No? Perché ogni volta che clicca noi ripartiamo da zero e quindi è bene anche ripulire tutte le strutture dati che abbiamo, tranne appunto magari la lista di esami che possiamo supporre essere fissa. Quindi quella la prendiamo una sola volta all'inizio e invece tutto il resto lo ricreiamo da zero ogni volta che l'utente ci chiede una nuova soluzione. E quindi qua dentro che cosa vado a fare? Beh, pulisco la mia soluzione migliore, la ricreo e quindi migliore uguale new hash set di esame. Non basta, ovviamente reimposto anche il peso migliore che ho visto fino ad adesso. In questo caso cerchiamo un massimo e quindi impostiamo questo valore a un valore molto piccolo, che sappiamo che verrà sovrascritto la prima volta che incontreremo una soluzione. La ricerca di un massimo, dovreste sapere come funziona. Quindi media migliore la impostiamo a meno 100, meno 2000 oppure zero, perché sappiamo che comunque troveremo valori maggiori dello zero da qui in avanti. Quindi questo è il ripristino soluzione migliore. 0.0 di seconda è uguale, dovrebbe funzionare nello stesso modo. Come avete visto la scorsa volta, spesso, quasi sempre, questi programmi ricorsivi hanno due funzioni. Quella ricorsiva vera e propria, che qui non c'è ancora, e poi una funzione in testa, che è questa qui, che sistema le cose, prepara le cose, e poi invoca la funzione veramente ricorsiva. Quindi qui, da qualche parte ci sarà un cerca, chiamiamola così, ricorsiva, che farà tutto il suo lavoro, scenderà nei vari livelli, e poi quando ritornerà, quando finirà, noi sapremo che possiamo ritornare la nostra soluzione migliore. Perché quella, quel cerca lì ce l'avrà riempita da qualche parte. Se non sarà riuscita a riempirla, supponiamo, mettiamo il valore MA1, non c'è nessun esame di un credito, noi non potremo mai trovare una soluzione. In quel caso, la funzione cerca non riuscirà a riempire la soluzione migliore, e vabbè, noi ritorneremo nullo. E sarà compito del chiamante, ad esempio del controllore, controllare se questa soluzione migliore è nulla, oppure contiene effettivamente dei valori. Cosa passiamo a questa cerca? Beh, M, lo deve conoscere, il livello, quindi partiamo da zero, livello zero, e poi ci servirà anche la nostra soluzione parziale, no? Quella che andremo a costruire, svuotare e riempire mano a mano. Soluzione parziale che avrà lo stesso tipo della soluzione migliore, è pur sempre una soluzione, no? E quindi anche questa sarà un set, direi. Lo creo prima al volo, set di esami, esame parziale, uguale, new hash, set, esame. La creo vuota, e gliela passo alla mia funzione cerca. Chiaro? Ok, allora ci vado sopra e Eclipse mi dà il suggerimento di creare questo metodo e me lo crea qua sotto. Sistemiamo solo un attimino, questa I qua è meglio chiamarla L, ovviamente, il livello, il resto mi sembra corretto. È privato, un metodo privato va bene, tanto non ci serve richiamarlo dall'esterno, almeno direttamente, e quindi va bene. Allora, il pattern più o meno è simile tra i vari esercizi, è sempre abbastanza uguale, ci sono delle piccole differenze, però di solito segue un percorso abbastanza fisso, dove la prima cosa da fare può essere controllare i casi terminali. Perché sono importanti i casi terminali? Perché prima o poi dobbiamo fermarci, altrimenti andiamo incontro a dei loop infiniti. Quindi, se il vostro programma lo lanciate, si pianta, non dà più segni di vita, probabilmente perché, se si tratta di un esercizio ricorsivo, siete finiti in un loop infinito. O avete dimenticato, oppure avete sbagliato il caso terminale, e la ricorsione continua all'infinito. Dunque, direi che qui la cosa più furba è controllare subito il caso terminale che ci permette di fermarci prima. Giusto? Se prima riusciamo a fermarci, meglio è, dal punto di vista delle performance. E quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, sicuramente, abbiamo una soluzione parziale, dobbiamo capire quanto vale, che peso ha. Ma prima di capire che peso ha, dobbiamo capire a quanti crediti corrisponde. E sulla base di quei crediti riusciamo a dire, ok, è una soluzione furba, teniamo in considerazione il peso, no, è una soluzione non furba, ci fermiamo. Quindi, int somma crediti uguale, ecco che ci tornano utili i metodi che c'erano già nel modello, in particolare il somma crediti, somma crediti di parziale. Mi calcolo quanti crediti ci sono già in parziale. e dico subito, if somma crediti maggiore di m, il mio limite, return, è inutile che vado avanti e non controllo neanche se è una soluzione migliore, perché è una soluzione non valida. ok? else if somma crediti uguale, uguale a m. Questa else è superflua, no? Perché abbiamo già la return prima. se siamo in questo caso, sicuramente inutile continuare, perché siamo già al limite, però potrebbe essere una soluzione furba. Vediamo se è la soluzione migliore, quindi questa è una soluzione valida. Controlliamo se è la migliore, ovviamente non la migliore di tutte, ma la migliore fino a qui. a questo punto sì che ha senso calcolarne il peso, che è la media dei voti, double media voti uguale anche qui abbiamo il metodo già fatto per noi, che si chiama calcola media di parziale. Quindi mi calcolo il suo peso e poi dico if media voti maggiore della migliore media voti che ho visto fino ad adesso, che è salvata in media migliore, se questo succede vuol dire che sono davanti a una soluzione promettente. Quindi tolgo la più promettente che avevo visto fino a quel punto e mi tengo questa. E quindi dico che si chiama migliore uguale parziale mi aspettavo delle urla di disapprovazione va bene fare così o no? Ovviamente no perché qui non vogliamo copiarci il riferimento perché se facciamo così ci copiamo in migliore ci copiamo il riferimento a parziale. parziale parziale però poi evolverà, cambierà. Noi qui abbiamo bisogno di fare una fotografia di parziale. In sostanza farne una copia vera e propria perché altrimenti facendo così parziale cambia e ci cambia anche migliore ma non ha senso questa cosa. Ok? Quindi dobbiamo fare una copia come si può fare facendo una new. New hash set di parziale Ok? Qui manca esame. Occhio perché è un altro errore comune. Non voglio il riferimento ma una copia. Non basta, sovrascrivo anche media migliore che viene sovrascritta con media voti. Qui siamo con dei numeri double e quindi questo uguale qui invece va bene è veramente una sovrascrittura. Quindi questo pezzo di codice queste linee di codice sono quelle che ci permettono di uscire prima se riusciamo. Se arriviamo qui in questo punto qui sicuramente i crediti sono minori di M perché il maggiore l'abbiamo controllato qui l'uguale è uguale l'abbiamo controllato qui. Quindi se i crediti sono minori di M non devo controllare se è una soluzione migliore perché non è ancora valida però potrebbe diventarlo valida aggiungendo magari un altro esame ancora. Mi mancano ancora 6 crediti a raggiungere il mio limite. Beh se io da qui in avanti troverò un esame da 6 crediti proverò a metterlo e a controllare il peso di questa soluzione. Quando è che ci fermiamo però anche se i crediti sono minori di M quando abbiamo raggiunto veramente il fondo. Quindi quando non abbiamo più esami da controllare. Quindi se L il nostro livello è uguale o uguale a esami.size questo controllo questo caso di terminazione c'era anche per gli anagrammi quindi quando raggiungo o per le otto regine probabilmente magari in forme diverse però quando raggiungo il fondo non ho più niente da aggiungere cosa faccio? Me ne vado. Return. Perché me ne vado e basta? Perché questa non potrà essere una soluzione migliore perché i crediti sono minori di M e non ho più niente da aggiungere e quindi fine. Finalmente se siamo arrivati qui possiamo generare i sottoproblemi. Non siamo ancora a livello ma abbiamo non siamo ancora a M crediti ma abbiamo ancora degli esami da inserire. E cosa posso fare? Come per gli anagrammi no? For esame e in esami di nuovo devo controllare di non avere già inserito questo esame e perché se l'ho già inserito è inutile che lo inserisco di nuovo e quindi if lo inserisco solo se è parziale non lo contiene già quindi if not parziale punto contains e se non lo contiene già classico pattern provo ad aggiungere faccio andare avanti la ricorsione lo tolgo per fare backtracking quindi parziale punto add e supponiamo di aggiungerlo facciamo andare avanti la ricorsione cerca parziale l più 1 m e poi lo togliamo parziale punto remove e fine vi faccio notare due cose importanti vabbè la prima è banale contains funziona perché esame ha hash code e equals implementati bene ma questo ormai dovrebbero saperlo anche i muri l'altra cosa è questa il backtracking e l'aggiunta qui abbiamo dei set i set contengono al massimo una sola volta lo stesso elemento e quindi noi possiamo fare questa remove qua a cui passiamo l'oggetto da togliere ok siamo sicuri che tanto di quell'oggetto è lì ce n'è solo uno perché è un set lavorassimo con delle liste ok dove ci possono essere elementi duplicati questa remove qui a cui passiamo direttamente l'oggetto non funzionerebbe perché perché magari poi nella mia lista ho due elementi uguali perché perché mi servono nella soluzione quindi facendo quella remove lui trova lui elimina il primo che trova e questo non ci va bene se lavoriamo con le liste il backtracking si fa togliendo l'ultimo elemento inserito quindi quello in fondo alla lista facendo una remove di lista punto length meno uno ora l'ho detta male ma ci siamo capiti togliamo l'ultimo che abbiamo inserito qui in sostanza non è necessario perché intanto sappiamo che di e ne esiste uno solo e quindi togliamo quello si lì questa qua ok no lì non abbiamo trovato soluzioni per quel determinato ramo della ricorsione ma poi tornando indietro potremmo esplorare un altro ramo in cui troveremo migliore questa non è la fine di tutto è la fine di un ramo se volete se volete perché questo è un punto importante vi faccio anche vedere cosa succederebbe con una lista supponiamo che questa sia che migliore non migliore non migliore scusate che parziale sia una lista ok io ho linked list e qua è una lista qui non funziona non funziona più niente perché tutto è impostato con i set ma non lo lanciamo voglio solo farvi vedere questo se parziale fosse una lista useremo la remove con l'index quindi remove di parziale punto size meno uno toglieremo l'ultimo elemento della lista quindi quando avete liste il backtracking si fa così quando abbiamo set va bene anche così ok perché siamo sicuri che quella remove toglie esattamente quell'elemento lì che abbiamo inserito ok c'è qualche errorino vediamo dove forse è rimasto una lista ah qua si hash set set ok lo proviamo vediamo se tutto funziona vado nel main intanto il controller era già fatto per noi lanciamo numero crediti proviamo con 20 calcolo mi sembra ragionevole abbiamo due esami da 10 crediti e quindi ci da esattamente 20 crediti e direi tutti e due con 30 e quindi mi sembra veramente un massimo vediamo che ci ha impiegato 14 millisecondi ma proviamo un po' con 50 crediti ok provo con 50 faccio solo un reset e provo con 50 e io vi assicuro che potremmo stare qui delle ore senza senza risultato vedete che il programma sta girando ma non raggiungiamo la fine ok quindi ora lo stoppo e cerchiamo di vedere se c'è un approccio più furbo che ci permetta di risolvere anche la soluzione con m uguale a 50 vi assicuro che una soluzione c'è allora il problema di questa soluzione abbiamo visto essere il fatto che esploriamo tanti percorsi inutili in particolare se ragioniamo dal punto di vista matematico non so se l'avete visto in corsi precedenti probabilmente non avremo tempo di vederlo nel dettaglio in questo corso in ogni caso la complessità di questo algoritmo è n fattoriale esploriamo veramente tutti i possibili casi è una complessità n fattoriale cresce addirittura più dell'esponenziale quindi appena la complessità del nostro input quindi la grandezza del nostro input m in questo caso cresce la complessità esplode e non riusciamo arrivare a una soluzione vediamo un approccio più furbo approccio 2 tra virgolette più furbo allora qui qual era il problema il problema era che nonostante a noi non interessasse l'ordine il nostro algoritmo invece l'ordine lo contava no? perché esplorava anche ad esempio coppie inverse di esami e allora perché non come dire generare i sottoproblemi uno per volta uno per volta scorrendo l'insieme di esami di partenza in ordine decidendo per ogni esame due cose se debba se debba inserito o se non debba essere inserito quindi prendiamo la nostra il nostro insieme di esami di partenza lo scorriamo in ordine e per ogni esame ci chiediamo ok questo esame lo inserisco oppure no proviamo a inserirlo e facciamo andare avanti la ricorsione supponendo di averlo inserito oppure proviamo a non inserirlo e facciamo andare avanti la ricorsione supponendo di non averlo inserito quindi per ogni esame io ho due rami possibili o n esami la complessità di questo approccio sarà 2 alla n che è comunque esponenziale ma è molto meno dell'n fattoriale quindi per ogni esame due possibilità li scorro in ordine e quindi non mi capiterà mai di avere le coppie invertite o gli esami invertiti perché li sto scorrendo in ordine supponiamo e1 e2 n prendo e1 lo metto non lo metto prendo e2 lo metto non lo metto potrà esserci e1 e2 ma non potrà mai esserci e2 e1 perché io continuerò sempre in ordine quindi in questo caso il livello della ricorsione coincide con l'esame da considerare quindi a livello uguale a 0 se vi ricordate prima a livello 0 io avevo n scelte possibili parziale che inizia con e1 oppure con e2 oppure con e n in questo caso a livello 0 ho invece solo più due scelte possibili e quindi parziale che contiene e1 oppure parziale che non lo contiene quindi l'insieme è vuoto quindi livello 0 prendo il primo elemento provo a inserirlo oppure provo a non inserirlo se andiamo avanti a l uguale a 1 a l uguale a 1 passerò al secondo elemento e dirò ok parziale potrà essere uguale a e1 e2 oppure quindi ho inserito e2 oppure senza e2 e quindi continuerà ad essere e1 lo stesso livello l uguale a 1 replicato qui sotto mi darà anche qui solo due alternative inserisco e2 qui parziale partiva da vuota e quindi avrà solo e2 oppure non inserisco e2 e parziale continuerà ad essere l'insieme vuoto e via dicendo a livello l uguale a 2 e controllerò e3 eccetera eccetera anche qui ovviamente per semplicità e per ragionare insieme ho fatto finta che i livelli venissero espansi in questo modo in realtà la ricorsione espande prima tutto il ramo che inizia con e1 quindi e1 e1 e2 e andrà giù di lì poi tornerà indietro e farà il resto però per semplicità l'abbiamo espanso così questo albero è chiara la differenza usiamo questo trucchetto di scorrere gli esami di partenza in ordine in modo tale da non esplorare strade inutili proviamo a metterlo in codice torniamo nel nostro modello e magari chiamiamo questo cerca cerca1 e lo richiamo anche qua sotto e anche la chiamata ricorsiva la rinomino in cerca1 così ora facciamo il cerca2 che è questo approccio migliorato quindi commento un attimo la chiamata di cerca1 e immagino di avere un cerca2 più furbo che ovviamente condividerà molti aspetti con cerca1 sicuramente i parametri ad esempio saranno gli stessi attenzione era già così ma per questo motivo per usare questo approccio abbiamo detto scorriamo gli esami di partenza in ordine ok questo vuol dire che la struttura dati con cui teniamo traccia degli esami di partenza deve permetterci di fare questo e infatti la struttura dati degli esami di partenza è una lista ok fosse stato un set era meglio cambiare quella struttura dati in una lista ok era già così però era così per questo motivo ok facciamoci creare questo metodo cerca2 cambiamo di nuovo la i con una l di livello e proviamoci allora la parte di i casi terminali sono sempre gli stessi non cambia nulla quindi io li copio da qui sotto e li incollo qui ah me li ha messi malissimo ora li sistemo è chiaro no che i casi terminali sono gli stessi ok cambia solo come costruiamo le nostre soluzioni in questo caso beh per ogni livello l noi abbiamo due possibilità quindi proviamo ad aggiungere esami di l quindi così oppure provo a non aggiungere tra virgolette esami di l provo entrambe le strade e allora qui posso dire parziale punto add esami punto get facciamo accesso posizionale a posizione l ecco perché ci serve una lista con i set questo non avremmo potuto farlo quindi ad esempio al primo livello prenderò esami di zero il primo esame di partenza supponiamo di metterlo e facciamo andare avanti la ricorsione cerca due parziale l più 1 m e lui proseguirà quando tornerà indietro allora proviamo invece la strada in cui non mettiamo esami di l come facciamo noi l'abbiamo inserito facciamo backtracking lo togliamo e poi facciamo proseguire quindi parziale punto remove esami punto get di l qui facciamo accesso posizionale a esami di l supponiamo esami di zero il primo elemento e passiamo quell'oggetto alla remove di parziale che è una remove in un set e per lo stesso motivo di prima funziona perché siamo sicuri che di quell'elemento ce ne sia solo uno ok lo togliamo e facciamo andare avanti cerca due con parziale che invece questa volta non contiene quell'elemento fine vedete non c'è più il ciclo for ma con questo trucchetto di usare il livello come indice nella lista di esami di partenza scorriamo questi esami in ordine proviamo un attimo vediamo se va e soprattutto se ci migliora le cose proviamo di nuovo con 20 e di nuovo abbiamo i due voti da 10 crediti entrambi 30 e va bene potete già notare non so un po' piccolo ma rispetto a prima qui ci abbiamo messo due millisecondi prima ne abbiamo impiegati 14 quindi c'è già una differenza qui con 20 crediti se proviamo con 50 con 50 vi ricordo che prima non raggiungevamo una soluzione almeno in tempi ragionevoli qui ah scusate ho cliccato il bottone sbagliato qui in 52 millisecondi invece raggiungiamo una soluzione di media 29 con 1 2 3 4 5 6 esami un po' piccolo ma vi assicuro che è così quindi vedete che siamo abbiamo ridotto drasticamente la complessità del nostro algoritmo che ora riesce a terminare in un tempo ragionevole domande dubbi perplessità ricapitolando un attimo oggi abbiamo visto un problema di ottimizzazione dove la parte in più è questa qui che ci sarà spesso nei nostri esercizi io mano a mano esploro le soluzioni e quando trovo delle soluzioni valide cosa ci indica la validità di una soluzione beh negli anagrammi la validità era che tutte le lettere ci fossero una validità in più che potevate controllare non so se l'avete fatta e che la parola ottenuta fosse di senso compiuto non l'avete fatto però si può fare quindi avete una soluzione controllata una parola la controllate nel dizionario per vedere se esistono qui la validità era data da questo numero m in più non ci bastavano solo le soluzioni valide ma volevamo la migliore e quindi abbiamo questo codice con cui mano a mano ci teniamo in pancia la soluzione migliore che abbiamo visto fino a quel momento e poi alla fine in automatico avremo la soluzione migliore abbiamo anche visto due approcci uno un po' più furbo l'altro meno furbo cioè meno furbo meno efficiente diciamo così c'è anche il modo di migliorare questo cerca 1 e magari ve lo propongo come esercizio se volete c'è il modo di riportare la complessità di questo algoritmo qui a 2 alla n in pratica agendo un po' qui cercando di evitare di esplorare strade inutili questa cosa avveniva implicitamente nell'approccio 2 che abbiamo visto ma c'è modo di riportare questa cosa qui quindi in sostanza gira un po' sull'ordine di esplorazione anche qui quindi con dei controlli in più su questa if probabilmente riusciamo cambiando anche un po' magari il ciclo 4 riusciamo a replicare l'approccio 2 tenendo però la stessa struttura di questo se non ci sono domande direi che possiamo fare la pausa adesso e poi nell'ora dopo ci sarà il professor Corno con cui vedrete un altro argomento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti